Chiude il lab vaccinale del PIP nautico in località Capitolo San Matteo di Salerno. Dopo i disagi logistici legati anche alle condizioni climatiche, l'Asle di Salerno ha sospeso questa sede che fino ad oggi ha vaccinato il 20% della popolazione della città di Salerno, tra prime e seconde dosi. Da domani i richiami di Moderna e Pfizer per le persone che hanno già ricevuto la prima dose saranno destinati o al teatro Agusteo di Piazza Mendola o al centro vaccinale allestito nei locali della chiesa di Sant'Eustacchio. Sarà rispettato lo stesso giorno, solo probabilmente un orario diverso che sarà indicato nella nuova convocazione. A chiarirlo questa mattina ai nostri microfoni è stato il responsabile per l'emergenza Covid dell'Asle di Salerno, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi. Il capitolo San Matteo si chiude oggi perché per le esigenze logistiche complessive e per le difficoltà che in qualche modo hanno accompagnato questa situazione, riteniamo che in questo momento sia necessario sospendere un momentino quella sede di attività che peraltro ha fatto il 20% dei vaccini della città di Salerno. Il capitolo San Matteo ha vaccinato oltre 20.000 persone tra prime e seconde dosi, è arrivata a 24-25.000 persone. Le persone che hanno avuto la prima dose a capitolo San Matteo saranno spostate confermando le stesse date, non sempre riusciamo a confermare lo stesso orario, ma confermando le stesse date o al centro presso il teatro Augusteo o al centro a San Teustacchio. Saranno le due sedi dove si sposterà nella stessa giorno già prevista per fare la seconda dose di quelli che hanno fatto la prima capitolo San Matteo. Ringraziamo gli operatori, ringraziamo le forze dell'ordine, ringraziamo il Comune di Salerno che ci ha dato una mano a gestire quella situazione che di per sé non era semplicissima, tra l'altro le condizioni atmosferiche dell'estate rendono quella sede problematica, per questo in questo momento, avendo anche forze e risorse per garantire altrove la stessa situazione, nella città di Salerno ci sono 5-6 punti vaccinali attivi, riusciremo a smaltire tranquillamente le seconde dosi che nel mese di luglio cercheremo di azenare. Il mese di luglio dobbiamo fare circa 300 mila seconde dosi in tutta la provincia, spalmate in tutta la provincia, siamo in piena attività, avremo le dosi sufficienti per farle sicuramente per completare queste seconde dosi. La campagna vaccinale proseguirà senza interruzioni, ha ribadito il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile per l'emergenza Covid dell'asola di Salerno. Bisogna puntare a raggiungere l'immunità di comunità con almeno il 75% dei vaccinati. Mancano ancora 190 mila persone all'appello, solo 320 mila su 620 mila hanno ricevuto la seconda dose. Per raggiungere il target si tornerà nuovamente ad invitare quanti già iscritti ed anche chi non ancora è stato inserito in piattaforma a presentarsi volontariamente presso i centri vaccinali, tutto ovviamente è strettamente legato all'arrivo delle dosi di vaccino. Diciamo che per raggiungere il target del 75% ci vogliono altre quasi 200 mila, 180, 190 mila persone. Queste persone vanno aiutate in tutti i sensi a presentarsi, a iscriversi, a reincarsi presso i centri vaccinali. Se non raggiungiamo anche questo target non potremo parlare di immunità di comunità, è invece quello che ci serve. Per questo noi già da adesso sicuramente presso i centri vaccinali dedicheremo una linea a chi si presenterà anche direttamente al centro vaccinale per farsi vaccinare, anche se non già inserito in piattaforma. Ovviamente se invece si fa uno sforzo per inserirlo in piattaforma, questo semplificherà e velocizzerà i tempi di somministrazione del vaccino. La scelta in molti casi di fare attività vicino, in prossimità alle persone, è l'esempio di Santo Eustacchio, è un esempio classico, ci permette, ci permetterà e penso che potenzieremo queste azioni, di essere vicino all'esigenza delle persone in modo tale da raccogliere anche le situazioni di difficoltà nella manipolazione e gestione delle piattaforme, che non è proprio una cosa immediata da parte di tutti. Questo sforzo di assicurare le seconde dosi a tutti quelli che hanno fatto la prima dosi nel mese di luglio si muove proprio in questa logica delle varianti. Le notizie che circolano, probabilmente la variante Delta è meglio coperta dalla vaccinazione completa, per cui noi faremo uno sforzo in questo senso. A Salerno in questo momento abbiamo piccoli numeri, non ci sono grandi allarmi di questo genere, i tamponi quotidiani che escono positivi ormai siamo a numeri tutto sommato gestibili con grande facilità anche con il tracciamento e con il tracciamento saremo sicuramente in grado di isolare i focolai e nel caso in cui ci sono focolai importanti di fare anche il sequenziamento per caratterizzare le varianti.